Amici in questo video andiamo a scoprire cosa succede se con la skin di Deadpool andiamo a uccidere il buon vecchio Wolverine Finirà in tragedia, iniziamo E lasciate pure un mi piace, non fa mai male Ah già che è il compleanno di Fortnite, vabbè, auguri, più o meno Signori, allora, compleanno a parte, andiamo alla foresta fregnante dove troveremo sicuramente Wolverine Ho messo la skin di Deadpool perché, non so se ve l'ho detto nella intro in caso la rifaccio Se Deadpool incontra Wolverine succede qualcosa di incredibile fuori di testa Così mi han detto, ma magari mi hanno mentito Quindi lo andiamo a scoprire subito, c'è un bordello di gente che mi vuole infastidire Faremo molti tentativi? Molto probabilmente sì Moriremo tante volte? Molto probabilmente sì Ma hey! Vabbè, è andata così Tra l'altro, per chi se la fosse persa la live dell'altro ieri o di tre giorni fa Dove non giocavo da tanto, ho fatto anche una vittoria In caso seguitemi su Twitch, fate tutto quello che volete Vi ringrazio, bacioni, bacioni Nel dubbio, tu muori Un botto Eh, ho finito i colpi Secondo tentativo Non trovo un'arma Dai, davvero, davvero gioco non mi stai dando un'arma? Dai, la pistolina Allora, prendiamo sta pistolina schifosa, inguardabile a livelli proprio inguardabili Qua sopra e c'è pure un tizio che ha già 7 miliardi e mezzo di scudo Muori Eh, che è, che è, che è Allora, tizio morto, altro tizio morto e altro tizio che deve morire Devi morire! Ok, perfetto, va bene, va bene Non ho mai fatto così tanti danni con una pistola in vita mia Siamo saliti pure di livello e, vabbè, lasciamo perdere No, mi serve, mi serve, mi serve, mi serve Scappa! Yeah! Yeah! Eh, ok, molto male Molto male Allora, fatemi un attimo imboscare Dov'è Wolverine? Dai, non voglio che muoia, volevo ucciderlo io Che infami Mi state rubando Wolverine? Mi sa che mi rubano Wolverine Vabbè, comunque nel dubbio Andiamo a eliminare più gente possibile Mi servono ovviamente dei materiali Perfetto Totototototototot Wow, 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 wow Cos'è? 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 Sono sti colpi volanti? Cosa siamo? La mafia? Dai, muori! No, devi morire, devi morire, devi morire Sì! 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 L'urlo del sium Ok 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 Allora, sto pompa mi fa totalmente vomitare E quindi prendiamoci questo Poi qua, vabbè, ma no, quanta roba Che bene, che bene, che bene, che bene Signori, siamo messi benino Da un benissimo Ma benino Quindi, pozza la mano E come direbbe Ciccio Gamer Let's go Allora, mi prenderei queste Però, nè Non mi ispirano Quindi prendiamoci questo Eh, il falò Non c'è Oddio, che bello l'albero a fuoco Stupendo Oh, doppio albero a fuoco Dove, triplo Ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Mi servirebbero delle bandages Ma non ci sono Quindi male, male Andiamo a vedere se il buon e vecchio Wolverine ci è Anche se mi sa che l'hanno già scoppiato Ok Eh, sì 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 Cosa pensavi di fare? Oh, yes Oh, yes Allora Pompa stupendo C'è Medikit C'è Pozza C'è Granate Ci sono Bon Quindi Abbiamo preso tutto Abbiamo fatto tutto Mi sa che sto tizio ha scoppiato Wolverine E invece no E invece no Wolverine dove sei? Hashtag Free Wolverine Hashtag Massa spacca Hashtag E' meglio la Marvel Ok Lui ha ucciso Wolverine Sto tizio l'ha decisamente picchiato il nostro amico Wolverine Perché hai deciso di rubarmi l'idea per il video Eppure la kill di Wolverine? Punto di domanda che ora ti fucilo Malamente chi minchia ti aveva visto? Eh sì Eh sì Eh sì Ebbene sì Ebbene sì Piccolo sacco di schifo Eh niente Quanta gente Quanta gente No Ok un altro andato Ma do dire che stiamo facendo casino Eh dire poco Si è curato Si è curato dannazione Ah ce n'è ancora un altro Ma basta Quanta gente Muori Muori Ok mi dè andato Mi dè andato Perfetto Signori siamo carichi Signori siamo carichi Abbiamo già 6 kill Perfetto Dai mi fa schifo Faitare in casa Cioè proprio mi fa vomitare Allora vi avrò fatto sicuramente un taglio Ma son passati Fin troppi minuti Cioè è passato un botto di tempo Sto imbecile Si nasconde Non so dov'è Quindi lasciamolo lì Dov'è Perché Sinceramente non ci vorrei morire malamente Perciò prendiamo due materiali E ce ne andiamo Perché mi ha triturato Le palline A stare ad aspettarlo Però lo voglio uccidere Quindi Allora Wolverine È morto F in the chat per Wolverine Materiali non abbiamo tanti Quindi cerchiamo di andare a vincere Questa bella incredibile E super potente partita Con il nostro caro amato Deadpool Che in italiano Significa piscina morta Ok Ma tralasciamo questi piccoli E incredibili dettagli Oh il tipo Ah eccolo lì Eccolo lì l'imbecillone Oh Ti ho visto finalmente Ah son due Sono due O è sceso O sono due No è sceso È sceso Cioè praticamente ho fatto Tutta la partita Qui a foresta Cioè fuori di testa Foresta Fuori di testa Tutta la partita Vai fucilato 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 Dai morti Prego Ma sei di un No basta Sei fastidioso Ti giuro sei la persona Più fastidiosa Che io conosca Che abbia mai conosciuto E probabilmente Che conoscerò In tutta la mia vita Cioè C'è la safe Ma guarda Allora se mi uccide lui Rage quitto Basta Impazzisco Lancio il joystick Ve lo dico tranquillamente Cioè non può ucciderci Quell'imbecille camperone Sì lui Il suo nome è Imbecille camperone Guardalo lì Guardalo lì Che non c'hai vita Muori Oddio Finalmente Sì Sì Madò Che palle Sto tipo Che palle Scrivetemi In i commenti Vi prego Un hashtag Che palle Oh no No anzi no Hashtag Che palle Un po' brutto Facciamo finta Finalmente Hashtag Finalmente Madò Che palle Immortal guy Madò Oh La E ora andiamo a vincerlo Eh l'ho detta L'ho gufata L'ho gufata Signore è stato bello È stato un piacere Ma molto probabilmente Il prossimo nemico Che credo sia qua in parte Ci fucila Eh sì Guardalo lì Vabbè Faceva vomitare Allora Siamo rimasti in set E lì si stanno Mega fucilando Mega cecchinata Madò Sasciolla Palapalapalau Eh ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Io direi di andare Verso quelli là Che tra l'altro Sono anche in safe Se c'è un tipo qui Madò Che parolacce Speriamo di no E speriamo Soprattutto Di riuscire A combinare qualcosa di buono Magari qualche Mi serve una pozza In realtà Una pozza schiudo E mi do anche quel medikit Ci vediamo anche Oh vedo roba oro Attenzione vedo roba oro I poteri Ok Fuori di testa Vediamo cosa c'è Esplosione Turbine Storm Fa schifo Fima sta pistola Però è forti Ma do anche No vabbè dai Giochiamo safe Con le armi base Perché non vorrei Rischiare Vabbè dai Per ora rimaniamo così Mori 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 Fucilato Fucilato Dai che sono più forte Si spera Ok Stai calmo Devi stare calmo Cioè va bene tutto Divertente Però esplodi Esplodi Allora il pompa oro Cielo Monoraggio di iron man Sarà il nostro nuovo cecchino E questo ce l'abbiamo Ok Posto così A posto così La ringrazio Alla prossima Ah lì c'è pure roba Allora Prendiamo L'airdrop Madonna ci sono due airdrop Che bello No c'è la safe No 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 Va bene niente Airdrop Ok è stata la scelta Più scema del mondo Va bene Ah siamo 1v1 Attenzione signori 1v1 Fuori di destra 1v1 Lì c'è un merda kit E un altro potere Eh il merda kit bene eh Ah facciamo così Lascio giù il potere Mi prendo un attimo Il merda kit E così Me lo do Anche In realtà il monoraggio Di iron man Non è che Però Ce lo teniamo Dove sei? Piccola vittima Innocente Che verrà colpita Con un monoraggio In testa Che mamma mia Oh salve E 90 Gliel'abbiamo fatti Però anche lui Ci ha picchiato Eh vedete Il monoraggio Mi puzza un po' Non è che Mi piaccia più di tanto Perché ti lascia Un botto scoperto Ma un botto Dai che ci muo- Oh ma doi Se ci andiamo a morire Con sto pippone Vi giuro che proprio Ok C'ha 10 di vita C'ha 10 di vita 10 di vita Vittoria reale Che maiale Madò Reale Maiale 10 kill Buono Oh non male Non male Benissimo Prima partita Per la scuola Quindi mi tolgo le cuffie Mi tolgo tutto C'è C'era incredibile Spero che questo video Vi sia piaciuto Dovevamo uccidere Wolverine E invece abbiamo fatto Una bella vittoria reale Vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani Da solito ora Ovvero l'1.45 In caso attivate pure le notifiche Attivate tutto Con un nuovo video Ciao Auto 5 Woo